Il mio personaggio è Eli, è una barista, lavora in questo bar, in un quartiere di Roma, che è quasi un paese dove tutti si conoscono, è molto amata, ama il suo lavoro, ama lavorare e nonostante la fatica che si legge sul suo volto, ha un'energia incredibile. È un personaggio che mi ha subito conquistato, ha una famiglia che ama molto e nello stesso tempo e proprio per questo cerca di portare avanti la baracca e questo la porta a fare una vita difficile. Mario ha quattro figli, sposato con Isabella, viene licenziato da questa fabbrica dove lavorava e si ritrova a essere nulla tenente, disoccupato. Lui vive un momento di crisi perché ovviamente la donna si alza la mattina alle quattro, va al lavoro, prende quattro autobus, lui sta a casa, fa il mammo, è felicissimo di fare il mammo e di stare con i figli, però vorrebbe dare una situazione di relax, diciamo, alla famiglia, cosa che non può sostenere. È stato molto importante creare un passato perché dobbiamo credere che c'è un precedente, c'è una storia. Quindi abbiamo lavorato sul primo incontro con Mario. Abbiamo fatto improvvisazioni sul nostro matrimonio, improvvisazioni quando io venivo licenziato. per creare un po' un background emotivo, no? È il pregresso che ti dà quella intimità. E devo dire che è stato un percorso molto emozionante perché abbiamo girato delle scene molto piene di... molto dense. Ellie col suo cappottino rosso nel grigio della vita quotidiana è un punto di colore, è come se lei definisse così anche fisicamente la sua resistenza, il volere trovare il bello anche dove non c'è, trovare la vita anche dove tentano in tutti i modi di distruggerla. Grazie a tutti.